Raga, qualcuno di voi può chiamare per favore Monblano e dirgli che secondo il mio punto di vista con la storia Conte ci ha sparato una minchiata perché ieri c'è stata l'ennesima conferma, infatti prima di andare a parlare della partita dobbiamo parlare delle parole di Furlani un Furlani che ieri alla domanda su Stefano Pioli ha detto che loro sono felicissimi di quello che sta facendo Stefano Pioli e io non ne avevo dubbi, quando si parlava di Conte, quando è uscita la bomba di Monblano che diceva che era quasi fatta per Conte io vi ho detto che poco ci credo, perché? Perché questa società comunque i suoi obiettivi sono arrivare nelle prime quattro le ha sempre annunciate quindi per me era abbastanza scontato che Pioli restava al Milan proprio salvo un'Europa League scandalosa tipo eliminazione agli ottavi ma se no per me Stefano Pioli resta anche perché ha ancora un anno di contratto e io ho sempre detto non ci credo che vanno a pagare 4 milioni più tasse c'è 7-8 milioni a un allenatore senza che alleni sono attenti, accorti al bilancio parla del rinnovo di Magic Mike e dice che c'è due anni e mezzo di contratto e spera che resti a lungo con noi tu speri Furlani, anche io spero se tu gli dai i soldi che vuole Magic Mike resta non so come stanno facendo quelli dell'Inter che hai Barella, lo so che costano lo so che costano però quelli forti li devi pagare se non li paghi vanno capisco che mi racconti che ha due anni e mezzo di contratto però poi voglio la ciccia voglio la ciccia cioè il contratto, il rinnovo ha parlato di Oliver Giroux ma quello l'ho sempre detto Oliver Giroux adesso dipende quello che vuole fare personalmente se vuole andare in America se vuole stare al Milan sarà una decisione che prenderà lui e noi accetteremo ieri abbiamo visto una grande partita del Milan lasciando perdere il mio pensiero che ho del Ren che vi avevo già detto ma non è che l'ho detto dopo la partita perché dopo la partita allora uno dice è facile dire così dopo aver visto il 3-0 l'avevo detto prima della partita che dovevamo affrontare il nulla cosmico perché non mi piace davvero a me non piace fare quello che bisogna rispettare l'avversario perché ha vinto 8 partite non me ne frega un cazzo cioè io guardo le squadre leggo le rose e se sei scarso ti dico che sei scarso non ti voglio fare diventare più forte di quello che in realtà sei abbiamo giocato contro una squadra scarsa tipo Oratorio Val del Riso squadre A7-A11 una squadraccia praticamente però ho visto un grande Milan un Milan determinato focalizzato sull'obiettivo che era poi alla fine quello di passare il turno già in questa giornata per poter poi fare turn over quando andremo a giocare in casa loro un Milan che nei primi 35 minuti fino al gol dell'1-0 di Loftucic non mi era piaciuto tantissimo anzi ho visto il Re che correvo ho detto cazzo non vorrei che ci metta in difficoltà il Re e dopo invece il gol di Loftuc con un'azione magistrale che si è conclusa con un bellissimo close di Florenzi un Florenzi che ha fatto un'ottima partita e che a fine partita ai microfoni parla della voglia che ha di andare in nazionale dopo un close perfetto sulla testa di Loftucic Loftucic ha fatto un gol strepitoso e ecco lì mi sembra che sia stata un po' la scintilla che ha fatto scoppiare la partita del Milan perché poi dopo non c'è stata assolutamente storia nel secondo tempo ho visto Milan arrembante la coppia Raffaele Aoteo Hernandez è una coppia micidiale è una coppia che mette in difficoltà tutte le squadre europee non solo quelle di Europa League sono i nostri due fuori classi non c'è niente da fare sono quelli che fanno la differenza sono quelli che dobbiamo tenere sono quelli che se vuoi fare il salto di qualità se vuoi diventare un Milan vincente sono quelli su cui devi fare affidamento troviamo il 2-0 con Loftucic e poi finalmente si sblocca anche con una bellissima azione con colpo di tacco di Leao che manda la palla a Teo che la rimette in mezzo fa un bel gol anche Raffaeleau e poi poi basta girando ai cambi entrano un po' di riserve prende una botta Raffaeleau esce anche lui detto che niente di che dovrebbe recuperare per la partita col Monza e nulla facciamo una bella prestazione la prestazione che dovevamo fare la prestazione una prestazione convincente calcio ben giocato ma soprattutto cos'è più che positiva seconda partita consecutiva senza prendere gol quindi sembrerebbe che abbiamo trovato anche una giusta amalgama per 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 evitarci tutti i gol che abbiamo preso nelle ultime dieci giornate soprattutto nel 2023 speriamo speriamo che sia solo l'inizio di un Milan più compatto ma altrettanto divertente raga era quello sinceramente che mi aspettavo ed è quello che è arrivato abbiamo un Loftucic che sta facendo un campionato esagerato sta andando forte era quando l'abbiamo preso comunque l'unico punto di domanda era sulla tenuta atletica ma quando c'è che non si fa male che sta bene è un giocatore da Premier lo dimostra lo dimostra gli gol che sta facendo gol importanti ho visto un Gabbia che è diventato un Murofi ha una sicurezza una determinazione non passa nessuno The World The World grande grande sono contento perché comunque è un ragazzo è un ragazzo da Milan un ragazzo d'oro un ragazzo con la faccia con la faccia pulita quindi grande Matteo Gabbia sono contento non vedo l'ora che fa anche il rinnovo perché se lo merita sono felice del ritorno di Ciav perché anche lui per la turnazione perché Kier non le può fare tutte poi abbiamo anche a disposizione comunque Simic però il ritorno di Ciav è importantissimo sono soddisfatto sono soddisfatto dopo sinceramente a me l'Europa League nelle prime fasi mi fa davvero cagare perché non riesco a esaltarmi non riesco a esaltarmi perché dai non puoi il Milan il Milan la nostra squadra fortissima una grande squadra che deve competere anche per il campionato perché è a pari livello dell'Inter costretta a giocare queste partite qua con queste squadre che sono imbarazzanti come vi ho detto ieri l'Europa League mi esalterà quando cominceremo a giocare contro delle squadre serie ma soprattutto mi esalterà dai quarti in giù quando dovremo giocarci la semifinale o la finale un Milan che comunque dimostra che è tra le favorite non dobbiamo nasconderci non dobbiamo dare questa è più forte questa è più forte no noi siamo forti per provare a vincere l'Europa League se non arriviamo in fondo abbiamo fallito anche questa coppa e sarebbe una cosa che mi fa incazzare perché la squadra c'è la squadra c'è lo dimostra sono soddisfatto ora testa la partita col Monza che non sarà comunque una partita facile una trasferta però dobbiamo dare continuità a questi risultati raga sempre forza mia ho perso la voce scusatemi ci vediamo domani